ben ritrovati amici nel mio canale ecco oggi continuiamo con le nostre dediche ok oggi portiamo sono alla moneta di legno e più in più abbiamo allora quattro biglietti da cinque e uno da tre sempre dedicato ok man mano che grattiamo vediamo che ci sono auguro buona visione a tutti proseguiamo con la nostra grattata ok mi sembra che c'è un chiaroscuro forse dalla finestra entro forse da fastidio bene comunque mamma non mamma dedicata a marina ciao marina ecco qua allora cominciamo con il primo bonus che ci dice la farfalla primo vetalo cuore pantaloni disco cuore fiore mano arcobaleno poi abbiamo la matita televisore terzo cuore macchina foto tamburello scarpa e pace pace bene ragazzi comunque anche questo bigliettino ha perso ultimamente non si vince più con questo all'inizio si vince si vinceva qualcosa adesso non più vabbè comunque se ne compri uno è normale che questo è normale che non vinci va bene va bene comunque niente cara marina mi dispiace ma questo biglietto non è vincente passiamo al secondo biglietto dedicato allora richiesto da daria rota ciao daria questo è il miliardario che comunque noi dobbiamo chiudere un po ok vediamo se questo è chiaroscuro non ci dà fastidio allora buona visione a daria e buona visione a tutti ok passiamo ai nostri numeri vincenti 14 45 20 33 e 38 ok allora prima numero con codice 46 e noi abbiamo 45 cominciamo bene 42 13 abbiamo 14 e 40 abbiamo 43 tutta la quarantina meno del 45 ok 15 niente sempre 14 36 abbiamo il 38 e 33 ma abbiamo 26 35 e 27 niente di fatto ultima riga per noi 31 11 16 22 ultimo numero 23 niente di fatto mi dispiace cara daria questo biglietto non è vincente comunque daria tu hai ancora e questo era il numero 43 comunque che mi ha richiesto il miliardario vedi serie 98 43 ok poi mi ha richiesto anche un 20 per però del 20 per non ho trovato il numero e comunque l'ho preso ugualmente questa serie a 45 numero 27 vediamo un po cosa ci porta il 20 per ok ok c'è questo chiaroscuro che mi sta dando fastidio oggi ma non so come devo fare ok speriamo che si vede allora numeri vincenti 31 37 39 30 e 17 bonus ok primo numero 46 46 23 15 27 noi abbiamo 37 e 14 segue 18 44 niente 26 niente abbiamo il 29 e 45 la quarantina non ce l'abbiamo proprio 38 e 37 e 39 12 21 31 31 33 niente ultimo numero 32 e mi dispiace cara daria e anche questo biglietto è vincente pazienza sarà nella prossima volta adesso passiamo al secondo 20 per senza sempre richiesto da zampi cristina ciao cristina ecco il tuo 20 per ok allora numeri vincenti 13 19 22 29 e 36 ok ok prima numero 45 45 segue 23 23 abbiamo 18 niente di fatto 32 e 17 poi abbiamo 11 15 24 24 34 e 21 niente ultima riga 14 abbiamo sempre il 13 41 niente 28 46 ultimo numero 27 e oggi sta andando bravi non bene non bene non bene non bene non bene non bene non mi dispiace anche a te cristina non posso ottenere una vincita niente biglietto per dentro passiamo al nostro ultimo biglietto richiesto da silvano mitrangolo ciao silvano ecco il tuo multi star numero 16 speriamo che facciamo qualcosa con questo se no oggi oggi è andato a vuoto la nostra grattata ma noi siamo sempre positivi bene cominciamo col primo gioco che ci dice sotto le stelle 28 11 21 e 40 ok prima numero 47 poi abbiamo 17 e 20 niente abbiamo 30 e 18 niente di fatto stella bonus ci dice 37 e niente col primo gioco non passiamo al secondo 26 27 e 38 e 38 ok ok allora 44 44 23 33 33 33 54 niente di fatto 32 stella bonus 34 34 caro amici oggi abbiamo fatto veramente un buco nell'acqua carissimi 5 biglietti su 5 biglietti 0 recupero su 23 euro che abbiamo speso non abbiamo recuperato niente e va bene si sa che anche non ci vuole sempre vincere lo sappiamo già e non ci vuole anche sempre recuperare comunque mi ha fatto piacere portare i vostri biglietti ma senza se sono vuoti sarà la prossima volta e ringrazio tutti comunque per la richiesta continuate a fare le vostre richieste e saremo fortunati la prossima volta allora allora comunque vi auguro una buona giornata una buona serata secondo quanto guardate il video bene e non mi resta che chiudere questo video con la speranza che il prossimo sarà migliore è vero ok 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 carissimi e niente la lina penso che ho finito così vi bacio vi abbraccio sempre virtuali naturalmente like se vi è piaciuto il video condividete e iscrivetevi continuate a iscrivervi che siamo un vero traguardo comunque dobbiamo aumentare sempre di più e quanti più siamo meglio è e più bello è bene ok vi saluto a tutti un bacio e un abbraccio alla lina ciao al prossimo video ciao